Un gioiello mistico, nato dalla luce e da un mondo dominato dalla fantasia e dalla creatività, esposto alla prima biennale internazionale d'arte, sulle rive del lago di Garda, che si è aperta l'altro giorno a Peschiera. È quello di Lorena Bombardelli, in arte maracanta, l'artista di Drena, conosciuta e ammirata in Italia, e non solo per le bellissime creazioni realizzate con materiali spesso poveri e di riciclo, che ha portato il Trentino su un palcoscenico artistico importante. Organizzata da Francesco Saverio Russo, già curatore della Biennale di Barcellona, la mostra porterà al cospetto dello specchio lacustre artisti provenienti da ogni parte del mondo, con opere per lo più di pittura e scultura. Quello di Lorena sarà l'unico gioiello, una lunghissima collana realizzata con solo materiali di riciclo, oltre mille tappi salva freschezza delle confezioni di latte dell'azienda Latte Trento, che richiama alla mente le armature francescane, ma anche, con i suoi tentacoli, la bellezza di Medusa. Si tratta chiaramente di una provocazione, ha commentato l'artista, ma l'arte è anche questo, dare una seconda vita, diversa, forse anche più bella ed eccessiva, a ciò che sta per essere buttato via. La Biennale, allestita nella casarma delle artiglierie di Peschiera, rimarrà aperta fino al 4 aprile.